e ciao tutti ragazzi sono e ciao tutti statevi zitti e ciao tutti ragazzi sono e ciao tutti ragazzi sono e ciao tutti ragazzi sono wateraboney game e oggi siamo su minecraft ragazzi non so come se ricca mi si è di vista c'è misteri settato tutto quanto minecraft dove rifarmi tutto il parco come si dice oggi siamo ritornati su i dropper questo la mappa deve essere e questo sia esatto oggi siamo nel secondo capitolo e troppe oggi capito no c'è proprio problema un problema perché ci sono i miei cugini sono in vacanza non vedete la facecam perché l'ho tutta io tranquilli e mi sto scocciando quindi ragazzi oggi siamo nel secondo episodio così tanto tempo penso allora vi chiedo il commento del mio amico che ho chiamato francesco statevi zitti sto giocando sto facendo un video aspettate un attimo ok ragazzi andiamo sulla a feri la ferrini perché allora va buttiamoci scusate che ho fatto l'acqua premisci allora il commento del mio amico francesco ha detto tu anche la di palestra ha detto tiene premuto scusate che ho fatto l'acqua quanto vado sulle slime però poi non c'è slime c'è l'acqua no nome questo te lo meriti questo ti meriti l'acqua aspetta idea semi ma se c'è butto qua cosa succede moio sono un genio per forza un po' alto no l'ho obbligato c'è un grande allora stop mattina ok ragazzi ci sono riuscito ok ragazzi ho fatto u arancione ok ragazzi ciao andiamo con il secondo per la fatica che ho fatto ragazzi e lo so che dovrà sempre poco ma spero che il finale sia molto lungo perché poi ci saranno molte spiegazioni perché si è resa allora aspetta 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 non ho capito allora no aspetta allora quello è poi oralista quello dell'altra volta questo è il secondo il terzo che ho fatto questo è il quarto che devo fare di attraperci credo che di attraperci madonna è difficilissimo c'è ci provo ci provo ci provo ci voglio provare in queste situazioni non voglio fare il cretino ma sono proprio morta questa ora ora morirò 3000 volte allora ragazzi se arriviamo a 8 ma dico 8 like ovvero 8 pollici in su vi porterò il terzo episodio perché sto moreno al catinelle perfetto sto già morrendo ragazzi se volete un video gioco horror sul mio canale un nuovo video gioco horror mettete anche 5 like anzi sempre 8 like per un video horror aspetta e metto un attimo taglio matti ho provato a stare ship però ha funzionato bene ora usiamo y non rosa dovrebbe essere da colore y non veloci 3 ore ancora 3 ore ma dico 2 mai 4 i tt o e a rada risultato aspettare potto un pollicino oggi cio io ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi e quello che ha salutato era mio cugino alessandro ciao a tutti ragazzi